Nei primi sette mesi di quest'anno in Friuli, Venezia e Giulia sono stati più di 8.000 e precisamente 8.097 i nuclei richiedenti il reddito o la pensione di cittadinanza. In percentuale il numero rappresenta l'1% del dato nazionale. Le cifre fornite dall'Inps sono aggiornate allo scorso 31 luglio. Le domande sono arrivate per lo più dalla provincia di Udine 3.133, poi da Trieste 2.402, da Pordenone 1.409 e da Gorizia 1.153. Le famiglie che hanno percepito in questi sette mesi almeno una mensilità di uno dei due strumenti di sostegno al reddito sono complessivamente 14.573, cifra che vede coinvolte ben 26.230 persone per un importo medio mensile di circa 430 euro. Entrando nel dettaglio del solo sostegno al reddito, escludendo quindi l'integrazione alle pensioni, nella nostra regione i nuclei beneficiari sono stati 12.212 per un totale di 23.664 persone e con un assegno mensile un po' più alto di 471 euro. Le due misure in questi sette mesi 2021 sono state revocate a 514 nuclei, mentre sono ben 1955 i soggetti decaduti dal diritto di percepire gli aiuti. Quanto ai cosiddetti furbetti, qualche episodio è stato scoperto anche in Friuli Venezia Giulia, ma, fanno sapere dall'Inps, si tratta di pochi casi sporadici, accertati tramite i costanti controlli compiuti da più soggetti, non solo l'Istituto di Previdenza, ma anche la Guardia di Finanza e i comuni.